E' prezioso il contributo che gli oratori continuano a dare al nostro paese. Alla luce delle difficili sfide educative di oggi, il loro è ancora un ruolo formativo importante per i nostri giovani, circa mezzo milione che frequentano abitualmente gli oratori dalle grandi città fino ai paesi più piccoli. Si chiuderà domani tra Bergamo e Brescia il loro primo raduno nazionale, voluto fortemente organizzato dal FOI, il Forum degli Oratori Italiani. E' molto importante perché offre a tutti i ragazzi un'esperienza educativa buona in un ambiente sano, che in questi tempi è sicuramente importante. Io sono cresciuta in oratorio, quindi è un'abitudine per me, non mi pongo neanche il problema, vado in oratorio, trovo i miei amici e mi piace fare l'animatrice anche. Quattro giorni di convegni, di riflessioni, di scambi di esperienze, ma anche di vera festa, con momenti di svago e di divertimento, per il semplice gusto di stare insieme. Circa mille gli iscritti, tra educatori e animatori, che hanno potuto partecipare all'evento grazie soprattutto alla disponibilità messa in campo dalle parrocchie locali. Ogni partecipante ha ricevuto un kit per l'educatore, con indicazioni, strategie e metodologie per svolgere al meglio il ruolo di animatore, una volta tornato nel proprio luogo di provenienza. L'obiettivo è quello di fornire agli educatori tutti gli strumenti necessari, non solo per animare la pastorale dell'oratorio, ma anche e soprattutto per offrire un valido servizio alla società civile. Magari è bello coinvolgere anche i bambini più piccoli, vedere magari noi che siamo grandi essere ancora impegnati in oratorio, perché magari i piccolini sono spenti dai genitori e noi invece è una scelta, noi scegliamo di stare in oratorio e loro prendono noi come esempio. Gli oratori possono essere ancora una risorsa preziosa per il futuro del nostro paese, che non può prescindere dal ruolo chiave che rappresenta l'educazione delle nuove generazioni.